Siamo nel refettorio del santuario di San Giacomo della Marca a Monteprandone, sede della comunità francescana ovviamente monteprandonese. Non poteva esserci luogo migliore per parlare delle predilizioni culinarie di San Giacomo della Marca. Amava in modo particolare il pesce. A riprova di questo gusto, di questa predilezione, il professor Figliuolo dell'Università del Friuli Venezia Giulia, guardando le cronache della diocesi di Padova, ha scoperto che durante una visita di San Giacomo a Padova, il clero di quella diocesi preparò un pranzo di pesce acquistando delle spigole. Può sembrare un aspetto così, un pochettino minore, però fa parte della polietrica figura di San Giacomo della Marca.